25 Sanremo, saltandone 3, 4, il secondo, quindi il 91 mi pare che ho saltato, e poi ci fu un anno che io stavo all'estero C'è pure una rivolta popolare, perché si seppe che... No, no, quello è stato 3 anni fa, 3 anni fa, o 2, 3 anni fa Si spazza la voce che non eri a Sanremo, e fu un Sanremo di Conti, era quello della Raffaele, c'era pure la Maria De Filippi, c'era anche Maria Conti e Maria, sì, ci stava l'anno scorso, quindi, c'è 2017 Allora, l'anno prima, l'anno prima, allora adesso ricostruendo la storia, l'anno prima ancora, saltai la prima serata Perché tutti ne avevo, in quantitativa enorme, ne avevo 7 mi pare Casualmente finirono tutti nella seconda serata, quindi invece di cominciare il martedì, il mio festival cominciava il mercolì Ma si sorpresse pure mia moglie, anch'io, perché dice, ma questa 7, tutti nella seconda Hai lavorato tutta la sera qua Eh sì, sono stato tutta la sera presente, la sera dopo, è stata la sera di Fatti Bravo, famosa, imbarazzante Perché lei era attesa al festival e alla seconda sera, ma si era creato in questo caso il giorno prima Perché, non so chi, fu uno di Radio 2, che disse, ma non abbiamo visto Vesticchio, c'era Vesticchio, in quel momento è partito sui social Perché il condotto di Spa, non lo so, Conti non sapeva veramente, però io c'ero ma giorno dopo Per cui si montò questa cosa e uscì anche l'hashtag Escilo Non lo ricordo bene Escilo E di due ragazzi che poi ho voluto incontrare, perché, voglio dire, sono stati, ecco, hanno coniato l'unico termine Che comunque, insomma, fa piacere Abbiamo riso subito, no? E certo Sintetizza tutta una serie di cose Fa piacere E insomma, mi... Tanti anni con Pippo Un episodio, un baldo, insomma Un baldo, un anno straordinario, un anno di Elia e le storie d'Ese Perché quando comunicai a Elio Che... Stiamo parlando a terra dei cacchi A terra dei cacchi Quando comunicai a Elio, che bisognava fare un taglio del brano Perché c'erano gli highlights C'era il venerdì sera, ci stava una piccola parte del brano a suonare Per ricordare al pubblico, il giorno dopo, se avrebbe stata la finale Quindi bisognava ricordare al pubblico come era il brano in gara Perché mi pare che il venerdì era dedicato ai giovani Allora, chiamai a Elio e dissi che Baudo voleva la riduzione di un minuto del brano Quindi scegliere per già fare un taglio E Elio disse, non se ne parla proprio Perché... Dissi ma per me... Io vengo qua con un testo preciso Che racconta un'intera storia Come faccio? Non è una canzone come le altre Perché uno dice, bacio stroferito, non è Per noi non è così Per cui ho bisogno di dirlo tutto Non è possibile Dissi, guarda, è il regolamento Non è Baudo che chiede Che impazzito No, è il regolamento Non lo so Poi mentre parlavo tu meglio Gli disse, scusa, ma noi a che velocità la facciamo? Dissi, perché? A forza se lo facessimo al triplo della velocità Potrei dire tutto il testo E allora Lì per lì disse, ma è una follia Che era da fare dal vivo Era da fare dal vivo Per cui ci mettemmo a provare A una velocità supersonica Cioè, in Italia, no Siete cacchi Tutto velocissimo E durava un minuto e cinque Non riuscivo a farlo più veloce Un minuto e dieci E io dissi, senti, io provo a comunicare Quando dissi a Pippo questa cosa Mi disse, Pippo, sai Non vogliono tagliare il testo Lo devono fare Perché lui poi era imperioso Lo fanno tutti, lo fanno anche loro Ma ti volevo dire Che hanno Suggeriscono un'altra cosa E cosa suggeriscono? Mi hanno chiesto di provare a fare il prezzo Al triplo della velocità Così loro riescono a dire tutto Pippo in un atto È riuscito a immaginare la cosa E poi mi ha detto Non dire niente a nessuno Io dissi In che senso? Nessuno lo deve sapere Di ai ragazzi che va bene così Ma nessuno lo deve sapere Faremo le prove Lo sapranno tutti E beh Le fate a porte chiuse Ma sono a porte aperte E noi le chiudiamo Per cui E lì praticamente Chiusero le porte Ci fu l'assalto dei giornalisti Perché mi ha trapelato Qualcosa Che cosa succede? Per cui eravamo assaltati Per riuscire a sapere Ma chi avverrà questa sera? E quindi Non riuscimmo a mantenere il segreto E poi la sera Ci fu questa cosa Che Elio ha cantato Tutto il brano Con l'orologio alla mano E poi ha esultato Perché era riuscito A rientrare All'interno del minuto Quindi ha fatto Un triplo spettacolo Perché Ha rispettato il regolamento Ha cantato per intero Il testo che voleva Il cantante deve riuscire a stare Dentro del minuto E comunque insomma Uno anche Da litigi belli Insomma Cioè uno anche abbastanza E poi E' una persona coerente Io Di festival fatti con Pippo Baudo Ricordo una cosa Chi al primo giorno di prova C'era Baudo Certamente I conduttori Anche i direttori artista Insomma Arrivano un po' dopo Lui era presente Dalla prima Ed era lì A A dispensare Devo dire Suggerimenti E alcune volte Estremamente Importanti E funzionali Cioè Il contepartitore L'aveva scelta lui Per Baudo Quindi Ed era un pezzo importante Ma non aveva un finale E finiva E finiva Finiva in una maniera Io con te Praticamente Io con te Non c'era Gli l'ha fatto fare In prova Ancora si campano a Formentera Nel bar dove fanno Pirata Bus Dove al tramonto Fanno Con te partirò Che parte esattamente Quando il sole scende E finisce Quando tramonta Io con te E quello non c'era Io con te Quello io con te Fu una richiesta Di Baudo Quindi dobbiamo Riconoscere a Baudo La voglia La competenza La voglia Di esserci La Partecipazione Accorata Sentimentale Alle problematiche Che potevano Di quello che Che poteva venire fuori Su Paolo E io Onestamente Nessun altro E questo Non tolgo merito Né a Fazio Né a Ne a Conti Né a Davo E neanche a Baudo Ma una figura Come la sua Su Fessi Non so neanche Se ci sarà Non so neanche Se ci sarà più Questo Quindi Dico lo scappi Questa passione La tua invece Passione attoriale Veniamo Alle cose Ho letto Sul Corriere Che nasce Da Gigi il Bullo Giusto Quando guidavi Il carro funebre Prima ancora Prima ancora Prima ancora Gigi il Bullo È stata una partecipazione Ad un Ad un film Ma io Che era lì Arrivavo La scena del carro funebre Sì sì Arrivai A quel film Perché appartenevo Ad un gruppo Di cabaret Quando si comincia A far musica Si cercano tutte le occasioni Per far musica Quindi Mi proposero Di suonare In un gruppo Di teatro Di teatro con E io suonavo E E in particolare Le lezioni Diciamo Per effettuare Dei cori Quindi Le canzoni Dello spettacolo Io mi mettevo Facevo l'arrangiamento Delle voci Poi che cosa accade I spettacoli Andavano abbastanza bene Uno del gruppo Una ragazza Lasciò il gruppo E c'era il problema E c'era il problema Di capire Come risolvere La questione Decidemmo Che Anche per avere Una paga maggiore Invece di dividere in quattro Avremmo divisi in tre Io mi sarei Addossato qualche parte Da recitare Per cui Dissi va bene così Parti con recitare E poi Pian piano La cosa Diciamo È cresciuta Fino ad arrivare A fare qualche A fare proprio Spettacoli In Italia Con questo gruppo Che erano i 3-3 Ah con i 3-3 Con i 3-3 Poi Che cosa accade Che una volta Andammo ospiti Di un programma televisivo E Mi pare si chiamasse Bontalloro Costanzo Costanzo C'era l'orchestra Di Dino Siani Io Vengo in quella circostanza Dovevo invece stare Insieme agli altri Mirko Eroardo E dovevo suonare E dovevo recitare Io mi senti male Perché avevo alle spalle L'orchestra Tra l'altro In quel periodo Io già Lavoravo come musicista Nelle realizzazioni Di dischi Quindi voglio dire Ero già Avevo cominciato La professione musicale L'idea di stare Davanti all'orchestra E sentire questa separazione Tra La mia famiglia Alle spalle E E Questo ruolo Che avevo Divertitamente Accettato Ma io cominciavo a pesarmi Perché io volevo fare Il musicista Era il quarto Dei 3-3 Era il terzo Dei 3-3 Perché non c'era Gino Ah non c'era ancora Gino Non c'era Gino E io a quel punto Quella sera Ho fatto come Fanno le golf Ho dato il preavviso Ho dato 30 giorni Che sono diventati Tre mesi Perché non si riusciva A trovare Che potesse sostituirmi Perché sarebbe venuto A mancare La parte musicale E se non che Gino Che era stato Uno che avevamo frequentato Gino Cogliangro Molti anni prima Perché anche lui Aveva fatto delle cose Con gli altri due attori Recuperarono Gino E Gino Presi il posto mio E fortuna Vole Per entrambi Veramente Perché avevo Lo direi Siccome eravamo E siamo ancora Tanto amici L'idea di lasciarli Di lasciarli in difficoltà Mi pesava Sì La fortuna ha voluto Che arrivassero Tra i Vini E il loro grande successo Io Sono stato Felicissimo Li ho raggiunti Abbiamo festeggiato Insieme Perché Io mi sentivo Sollevato Dal fatto che L'ora hanno dovuto Cambiare Una serie In corso Una serie di cose Ma Questa è stata La loro grande fortuna E questa è stata E' stata anche La mia grande fortuna Perché lì Io Diciamo Quello è stato Un periodo In quale Ho potuto Anche focalizzare meglio Stabilirei Chi sono E che cosa voglio E questo è venuto Prima Del 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 Gigi il Bullo No E' venuto Dopo Perché Durante la mia Permanenza Quei 3 e 3 Ci procurarono Una Una Particina In un film Nella quale Edoardo Guidava No Io guidavo Non mi ricordo Mi pare che Edoardo guidava Il carro fune Premi che Costava lì E io E io Anche All'interno Nel carro fune Preciavamo Tutti Tutti Estranei Allegramente Allegramente E invece adesso In Monster Shop Fai te stesso Allora in Monster Shop Faccio me stesso Che è una cosa Che tocca a pochi Nel senso Effettivamente Sì E adesso Ti vengono chiamati A fare Ma non tutti Vengono imitati Voglio dire Quindi Già ricevere Le imitazioni È il segno Di Di uno stato Particolare Di Di riconoscibilità I capelli Bianchi Una volta Erano neri E devo dire Che sono invecchiati Più in televisione Che a casa Perché sono Che a casa Che a casa Che a casa Super Che a casa Che a casa